Per la prima serie, alla 1 Nicolò Castroviglia, alla 2 Pietro Bruzzo, alla 3 Andrea Beltrana, alla 4 Mirko Somma, alla 5 Tommaso Sala, alla 6 Alex Dardi, alla 7 Pietro Di Bartolo, alla 8 Riccardo Folesani. Il record della manifestazione, ragazzi primo anno, Gabriele Turelli, 2.1808 del 2011, ragazzi secondo anno, sempre Turelli, 2.1015 del 2012 e ragazzi terzo anno, Samuel Bauter, 2.572 del 2011. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Luca Villani, 2.24 e 32, se giudica la seconda serie, passa al coma della classifica provvisoria, intanto invito anche Desiree alla rotonda in zona premiazioni per il Cento Farfalla. Grazie a tutti.